Ringrazio i Vescovi italiani, in particolare Monsignor Angelelli, per la bella lettera inviata a tutti i curanti. È molto bella questa parola perché richiama l'impegno che i medici mettono nella cura di coloro che soffrono, di tutti i malati. E averlo richiamato con una nota ufficiale ci dà molto conforto e soprattutto ci sprona ad essere ancora più disponibili nei confronti di tutti coloro che presentano un disagio nella salute e nella malattia. La lettera fa riferimento a tante situazioni. Mi permetto di ringraziare per il fatto di aver richiamato in maniera particolare le disuguaglianze, quelli che nella lettera i Vescovi chiamano irraggiunti, cioè quelli che sono nella difficoltà di accesso al servizio sanitario nazionale. È un'esigenza che più volte abbiamo espresso e ci conforta essere in questo momento solidari con tutti coloro che svolgono questa attività per superare quelle disuguaglianze che rendono diversi i cittadini di fronte a un diritto che la Costituzione definisce fondamentale. E poi nella lettera un richiamo particolare è fatto all'attività di violenza nei confronti dei medici e degli operatori sanitari. Anche qui una sottolineatura importante che ci ha visto talvolta, come dire, espressioni proprio del disagio della gente che si riverbera nei confronti proprio degli operatori sanitari. Il richiamo nella nota della mancata programmazione, delle difficoltà nei confronti proprio dei professionisti, del numero dei professionisti indispensabili per svolgere questa attività, credo che sia un monito fondamentale per tutti coloro che oggi esercitano il ruolo di governo della sanità. E infine la sottolineatura dell'importanza dei professionisti. Credo che questa nota vada a riscoprire il valore non soltanto legato alle competenze, alle abilità che i medici e i professionisti sanitari hanno acquisito nel percorso di studi, ma soprattutto anche quell'anelito, quel senso di etica che contraddistingue l'esercizio di questa professione. Credo che su questo il connubio tra scienza e fede resta una delle questioni importanti per tanti cittadini oggi che esercitano e che sono anche credenti, ma soprattutto viene riaffermata l'importanza della scienza nell'esercizio di questa professione e nel rispetto dei diritti nel nostro Paese. Credo che questo richiamo in un momento particolare che viviamo come quello della pandemia possa rappresentare ancora una volta la via per uscire dai tanti disagi che questa malattia ha provocato alla nostra società, ma soprattutto rimette in campo la fiducia nei confronti dei curanti. Grazie